Nell'estate delle proteste contro la buona scuola di Renzi, nell'estate 2015 della raccolta di firme per il non referendario alla legge 107, c'è chi della buona scuola ne ha fatto una bussola per tutta la carriera. Basta tornare indietro nel tempo, sfogliare il libro dei ricordi, le fotografie in bianco e nero. A Modugno la maestra Lucrezia Pantaleo, un fiume in piena, 90 anni appena compiuti, al microfono di Punto TV ha raccontato cos'è stato per lei l'insegnamento. La maestra elementare Lucrezia Pantaleo non si interrompe mai, ripete come fossero un'ossessione due parole, disciplina e rigore, vocaboli difficili da comprendere oggi per molti genitori. La stessa maestra Pantaleo che passava dalla teoria alla pratica sul campo con le cosiddette uscite interdisciplinari. Numerosi sono stati anche i riconoscimenti che Lucrezia Pantaleo ha ricevuto non solo dall'amministrazione comunale di Modugno ma anche dall'ormai ex provincia di Bari. La sua è stata una missione. In pensione ormai da anni e come le stesse ammette, costretta ad andare via a lasciare i suoi bambini, le restano i ricordi, i temi degli alunni che lei racchiude in una cartellina ingiallita dal tempo. Alla domanda maestra Pantaleo che ne pensa della buona scuola di Renzi? Solo un sorriso.